In questo caso, cosa scopriamo? Scopriamo che questa frase di Giovanni è ripetuta da Matteo Allora furono crocifissi con lui due ladroni Uno a destra e l'altro a sinistra Qui Matteo tralascia Gesù nel mezzo, ma è sottinteso, è vero? Mi seguite? Nei posti economici lì dietro, Luca mi segui? Se non mi segui ti sparo, ho una pistola